Sotto scritto il protocollo d'intesa tra la provincia di Barletta, Andrea Trani e la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media, impresa per la costituzione di un tavolo di lavoro congiunto sulle tematiche ambientali. Il tavolo di lavoro è costituito da tre delegati della provincia e da altrettanti delegati del CNA BAT, come obiettivo la condivisione delle migliori pratiche in materia di ambiente. Luca Cicirello. Sotto scritto il protocollo d'intesa tra la provincia di Barletta, Andrea Trani e la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa della BAT per la costituzione di un tavolo di lavoro congiunto sulle tematiche ambientali. Il tavolo di lavoro, costituito da tre delegati della provincia e da altrettanti della CN BAT, tra i quali il presidente Michele De Marinis e presieduto dal dirigente del settore ambiente della provincia Vito Bruno, è finalizzato alla condivisione delle best practices relative agli elaborati tecnici necessari alle domande di autorizzazione ambientale, nella predisposizione e presentazione della documentazione e in tutti gli interventi che migliorino, in un'ottica sinergica, l'azione della pubblica amministrazione. Con questo protocollo d'intesa costruiamo un ponte diretto tra la provincia ed il mondo delle imprese, come ha affermato il presidente Francesco Spina, necessario per rendere più efficienti sia i processi decisionali dell'ente che la predisposizione delle pratiche aziendali in materia ambientale. Ospichiamo che il tavolo di lavoro possa diventare, hanno detto i partecipanti, un laboratorio in grado non solo di individuare semplificazioni e riduzioni dei tempi di valutazione delle pratiche onde consentire di eliminare gli effetti negativi sugli investimenti e sullo sviluppo del nostro territorio, ma anche di formulare specifiche proposte da sottoporre all'attenzione dei sindaci e dei consiglieri comunali della BAT, come ad esempio un regolamento unico per l'applicazione dell'Atari e per l'assimilazione dei rifiuti speciali, rispondente alle disposizioni comunitarie che, salvaguardando il principio di equità, sia in grado di eliminare ingiustificate disparità di regolamenti nei diversi comuni e differenze di trattamento, con conseguente alterazione del mercato e della concorrenza. A partire dal prossimo mese di settembre saranno organizzati dei seminari gratuiti, rivolti alle aziende di nuova costituzione, soprattutto gestite da giovani, sulla corretta gestione dei rifiuti, ecoreati, acque meteoriche, emissioni in atmosfera, al fine di sensibilizzare cittadini e imprese al rispetto dell'ambiente e far crescere la cultura della legalità.